Il mio ultimo colpo è stato a Rio. Mi serve il tuo aiuto, Dom. Ci assolvi tutti, dal primo all'ultimo. Prendere o lasciare, lo voglio vivo. Non sono né sbirri né spacciatori di droga. Ehi ragazzi, hanno un carro armato! Sono stati promossi a un livello totalmente diverso. Grazie a tutti.